Basta, non mangia più, mangia lì. Non c'è i fagioli, non mi sono buoni. Perché sta scostiato? I fagioli sono buoni. Non c'è i fagioli, così puoi? Non sono come quelli di scatola. Non c'è mai scatola. Eh? Come quelli di scatola, perché? Sì, sì, ma c'è. Quante è? Mi senti la differenza. Fagioli... Cannellini. Eh? Cannellini? No, cannellini. Cannellini. E adesso, come? Io ti ho fatto buon. Ah. Mi senti la mappa. E quello che fosse un po' è il mio corpo E per quanto riguarda le buoni? Non c'è, ma non c'è. E per quanto riguarda le buoni? Ma guarda che i bambini? E anche mi sono giuditi. E che ne ho fatto. che vale proprio nel dubbio i pulcini maschi i pulcini maschi ma l'uovo l'uovo cos'è si prende male si infatti pensiamo al trattamento i pulcini maschi si mettono malissimo li rifanno attenzione poi faccio un piatto fai fai caldo scopriato il nostro no questo al sale scoppiato mettete mettete grazie di buona è più morbida è più morbida sono pregato allora non è più buona io ci spettano